Oggi ho deciso di fare un video diverso dal solito, un po' vlogesco, per raccontarvi una storia. Volevo raccontarvi la storia di come e perché ho iniziato ad allevare una colonia di formiche. L'anno scorso, più o meno verso settembre, sono andato a Città della Scienza, a Napoli, per vedere la mostra corporea. Se potete andateci perché è bellissima, mostrano tantissime cose sul corpo umano e si possono fare degli esperimenti. È molto divertente se si è debo con un'altra persona. Comunque, uscendo da questa mostra, a Città della Scienza, c'è un negozio in cui vendevano anche dei giocattoli. E tra i giochi c'era questo, praticamente, un kit per allevare delle formiche con un gel e delle piantine che crescevano. Vabbè, questo non mi interessava tanto l'aspetto delle piantine, ma vedere quella cosa ha fatto risvegliare in me un desiderio che avevo sin da piccolo. Da piccolo, quando non avevo la possibilità, ricordo che passavo ore ed ore inginocchiato a terra a osservare formiche e insetti. Gli davo da mangiare, gli mettevo altri insetti e le vedevo combattere, vedevo come interagivano tra di loro. Negli anni 90, potete immaginare, a fonte di informazioni di un bambino, erano quei programmi televisivi che c'erano ogni tanto, nei documentari, i libri di scuola, che però vabbè non parlavano tanto di queste cose, e l'enciclopedia al massimo. Chiunque è nato nella mia epoca ricorda benissimo l'enciclopedia in carta, per esempio. E quindi il modo migliore per imparare, per vedere queste cose, era farlo direttamente, osservare come uno scienziato, sporcarsi le mani. Chiaramente non avevo mai avuto la possibilità di arlevarle in casa, quindi potevo soltanto sporadicamente quando andavo in determinati posti in cui mi potevo appostare tutta la giornata. Tornando a noi, già dall'osservazione, io notavo che vi erano delle cose molto interessanti, come ad esempio il polimorfismo. A livello di una stessa colonia possiamo ritrovare formiche con forme e dimensioni diverse. Ad esempio, oltre alle operaie, possiamo riscontrare anche operaie di varie dimensioni, ma anche formiche soldato con delle mandibole giganti. Dai programmi tv ricordo di aver imparato che c'erano delle formiche che allevavano gli afidi per produrre melassa, per produrre sostanze zuccherine, oppure coltivavano dei funghi nei loro stessi nidi. Quindi una roba interessantissima. Quando ho visto quella cosa città della scienza, avevo già un po' di conoscenze di base dell'ambito per sapere che per iniziare una colonia e quindi iniziare questa esperienza avrei avuto bisogno di una formica regina. La formica regina infatti è quell'unica formica che è stata fecondata nella colonia e quindi in grado di depurre delle uova che daranno origine ad altre formiche, le formiche operaie. Si può iniziare una colonia semplicemente possedendo una formica regina. Questa normalmente in natura vola, soprattutto in estate, viene fecondata e poi si poggia a terra, va sotto qualche masso o qualche legnetto e perde le ali e depone le uova quando la temperatura lo permette. Quando torno a casa da città della scienza mi metto a cercare su internet, su Amazon di modi per allevare formiche. Ho trovato un po' di roba. Qualche giorno dopo, e fidatevi di me è una storia vera, mi vola davanti una formica di grandi dimensioni. Osservandola da più vicino mi resi conto subito che era una formica regina. Si va ad appoggiare sotto il lume che ho sulla scrivania, quindi la prendo tranquillamente, la metto in una di quelle scatoline in cui vendono i formaggini e inizio ad osservarla. Quella sera stessa perde le ali. E la perdita delle ali è spesso sinonimo del fatto che è stata fecondata. Io non ci potevo credere perché, ok, che avrei dovuto spendere un qualcosa tipo 40-50 euro, però l'avrei fatto tranquillamente, sono sincero. Ma quello che volevo comprare mi era caduto davanti agli occhi. Cioè è stata la consegna Amazon più veloce di tutta la mia vita, magari fosse sempre così. E niente, da quella sera quindi inizia questa mia esperienza. L'entusiasmo è venuto un po' a smorzare nelle settimane successive quando mi resi conto che quella formica non faceva assolutamente niente e praticamente mi ero rassegnato che quella formica era andata in ibernazione. Tant'è vero che soltanto verso aprile-maggio di quest'anno la formica ha iniziato a risvegliarsi e ha deposto le sue prime uova. Essendomi consultato un po' con la community di allevatori di formiche in Italia sapevo che il setup migliore per tenerla era in una provetta con il fondo pieno d'acqua separato dal compartimento con la formica da un po' di ovatta. Insomma, questa è una cosa che veramente possono fare tutti. Sarebbe potuta rimanere lì anche per un anno poteva rimanere anche con una cinquantina di formiche dentro una provetta non hanno bisogno di tutto questo spazio ma comunque ero troppo entusiasta delle prime uova e delle prime formichine che erano iniziate a nascere che ho deciso di comprare un formicaio che è proprio quello che vedete qui dietro di me in praticamente tutti i video qui sopra e siccome la formica che ho trovato è della specie Crematogaster scutellaris una specie di formiche del legno che io conoscevo molto bene da quando ero piccolo perché è molto diffusa nella pineta di Pestum dove io spendevo le vacanze nel terreno in cui l'ho messa ho piazzato anche qualche legnetto e potete immaginare la mia gioia nel momento in cui ho visto che hanno iniziato a sfruttare questi legnetti per nidificare all'interno quindi li hanno praticamente cavitati all'interno sono vuoti e vedevo le formichine che ogni tanto lanciavano i pezzettini di legno che scavavano mi sono soffermato ore ad osservarle mentre mangiavano ragnetti pesciolini d'argento mosche e quant'altro in generale comunque è stata un'esperienza abbastanza semplice non mi ha richiesto moltissimo tempo a parte il tempo che passavo ad osservarle forse all'inizio c'è stato qualche intoppo perché non mi sono trovato molto bene con questo terrario che ho acquistato e molto spesso fuggivano le formiche quindi io col pennellino dovevo andare a prenderle e a rimetterle nel terrario alla fine poi ho trovato il modo di evitare che fuggissero mettendo uno strato di vasellina e di olio lubrificante di quello che si utilizza per le macchine per cucire insomma avendole in stanza può essere una cosa un po' strana per molte persone ma credo sia una cosa abbastanza alla portata di tutti richiede molta meno cura sicuramente di un acquario e c'è un consumo decisamente minore di materiali, di soldi perché una volta che si è acquistato il terrario cosa che potete benissimo fare anche con del plexiglass se sapete farlo non bisogna fare più chissà quali acquisti successivamente se siete di quelle persone che godono di cose un po' macabre potete anche seguirmi sull'altro canale VitaZeroKelvinVolt dove carico un po' questi video super lunghi di formiche che mangiano cose non so poi in futuro cosa ci caricherò sarà un po' il mio archivio di questi materiali così ci tengo a raccomandarvi il canale youtube Enzi Italia non solo perché è bello quest'hobby dell'allevare formiche ma anche perché è un ragazzo che sa fare di quest'hobby una storia quasi veramente degna di un documentario televisivo se guardate i suoi video c'è una grande cura al montaggio una cosa che ho trovato un po' in comune tra tutti questi canali che trattano l'hobby delle formiche probabilmente si sono ispirati l'un l'altro spero di avervi instillato un po' di curiosità su quest'hobby che magari non conoscevate e che è una cosa più comune di quello che vi aspettate è una cosa che può insegnarvi davvero tantissime cose sul mondo animale soprattutto considerato che le formiche sono insetti sociali che mostrano alcuni comportamenti che sono strabilianti e sono ancora poco noti pensate che le formiche sono praticamente ovunque che sono tantissime specie noi siamo portati a pensare che le persone sono tante ma noi siamo soltanto una specie Homo sapiens le formiche invece sono tantissime specie di cui molte ancora non note e ognuna ha le sue caratteristiche peculiari da cui lo sa magari potremmo anche trovare cose utili per l'uomo vi ricordo anche che ogni tanto faccio delle storie dei post su instagram sulle formiche che sto allevando quindi seguitemi anche lì ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti